Qui la situazione è sempre più critica, a vista che siamo stati 100 operai qui che stiamo morendo di fame e il Comune ancora non prende provvedimenti. Che cosa chiedete esattamente? Perché praticamente c'è una lotta ormai diventata, non è più l'interlocutore, il Comune, quale che esso sia, prima, dopo, eccetera, il Commissario, ma se è una lotta tra voi di fatto. No, noi chiediamo solo la giustizia, cioè c'era una lettera, alcuni hanno rispettato e altri no, per cui chiediamo che tutti vengono giù, la giustizia per tutti. Noi ci siamo attenuti alle lettere che ha mandato il Comune di trasferirci di qua, altrimenti pagavamo 5.000 euro di multa. C'è scritto nell'ordinanza. Sì, sì, c'è un'ordinanza e perdevamo anche il diritto di licenza. Noi come cittadini onesti ci siamo trasferiti, però abbiamo subito un danno, perché gli altri, oltre che non hanno ubbidito alla legge, si vantano del fatto che di là da quando siamo venuti via noi, lavorano di più e non pagheranno le 5.000 euro di multa che dice il Comune gli ha fatto. Tutto qui è una questione di ingiustizia, punto, non ho altro da dire. Com'è la sua presenza qui e che cosa è accaduto? La mia presenza è un atto d'ufficio. Sono venuto qui per rassicurare gli operatori di San Lorenzo, coloro che hanno rispettato le ordinanze, che hanno rispettato gli impegni assunti nei confronti dell'amministrazione comunale e della cittadinanza, che il loro sacrificio non è vano. Il loro impegno, il loro rispetto della norma non sarà cosa persa inutilmente. Ma dall'altra parte si sostiene che il Comune non ha temperato a quanto dovuto. L'altra parte non è rappresentata qui, quindi lasciamo a loro l'interpretazione della vita. Quello che io dico e quello che vedo e sento, e cioè un'insoddisfazione degli operatori del mercato di San Lorenzo nei confronti degli operatori che non hanno rispettato gli impegni assunti con l'amministrazione comunale. E non posso far altro che essere solidale con loro. In effetti ci sono ordinanze, ci sono delibere che dovevano essere rispettate e che non lo sono state. Ci sono delle motivazioni su cui l'attuale amministrazione, il governo cittadino, si è impegnato a prendere cognizione e credo che una risoluzione ci sarà a breve.